Buongiorno a tutti. Invito i consiglieri a prendere posto. Procedo l'appello. Serra, Di Leonardo assente, Vittoriano assente, De Maio assente, Tumeo Di Marcantonio presente, Porconi, D'Alessandro assente, Biolcati, Alfano, Zallucchi, Caissutti assente, Pistolesi, Casari, Martelli, Caporaso, Romualdi, Boi assente, Terzo, De Luca, Gabanella, Lapegna assente, Porcelli, Giovannini, Tomassetti. 18 presenti e 7 assente, la seduta è valida. Signor Sindaco, signor Assessori, colleghi consiglieri, vi comunico che in ottemperanza al regolamento per il servizio di videoriprese e trasmissione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, adottata con delibera numero 41 del 10 luglio 2012, la seduta odierna sarà ripresa con un sistema di telecamera a circuito chiuso, trasmesse in diretta streaming e successivamente indifferita attraverso il sito web istituzionale, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politica amministrativa dell'ente e di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa. Mi è doveroso forgere un saluto di benvenuto a tutte le autorità oggi presenti e in particolare al signor prefetto dottor Roberto Sgalla, direttore centrale delle specialità di Polizia di Stato, prefetto vicario di Latina, dottoressa Vittoria Caramella, il vicequestore vicario dottor Cristiano Tatarelli, il comandante del distaccamento di Polizia Stradale di Aprilia, ispettore superiore Massimiliano Corradini. Procedo alla lettura della delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato per l'attività svolta dagli uomini e dalle donne del Polizia Stradale in servizio presso il distaccamento di Aprilia. Premesso che la Polizia di Stato può considerarsi un'istituzione nazionale irrinunciabile e sicuro baluardo di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, nonché a qualsiasi forma di delinquenziale in genere. Gli agenti di Polizia, con senso introspettivo ed intercettante le esigenze della popolazione, garantiscono la loro presenza sul territorio nazionale a tutela di tutti i cittadini. Sulla base di tali presupposti, nel 1959 ad Aprilia venne istituito il distaccamento di Polizia Stradale, con sede sulla strada stradale 148 Puntina, nei pressi del chilometro 45, direzione Latina Roma, strada all'epoca costituita da un'unica carreggiata a doppio senso di circolazione. Nell'anno 2000, poi, la sede del reparto venne trasferita in via Giuseppe Gioacchino Belli, numero 15, o attualmente insiste, in posizione strategica per l'accesso alle arterie principali delle strade regionale 148 Puntina e della strada regionale 207 Nettunense. Il 25 settembre 2006, poi, con decreti del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Dottor Giovanni De Gennare, la sede del citato distaccamento è stata intitolata alla memoria del sovrintendente alla Polizia di Stato Mario Palombi, tragicamente deceduto durante l'espletamento del servizio. Considerato che le donne, gli uomini della Polizia di Stato operano quotidianamente con alto senso del dovere e di affidabilità nelle attività di soccorso pubblico, Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria, in modo da essere punto di riferimento per la cittadinanza che ripone in essi piena e sicura fiducia. Nell'ambito di dette attività, nella mattinata del giovedì 27 luglio 2017, una vasta operazione della Polizia di Stato, denominata Dark Side, a posto fine ha sgominato un'organizzazione criminale, dedita al traffico illecito e sversamento di rifiuti pericoloso sul territorio di Aprilia. Detta operazione ha permesso di far emergere una rilevante attività dilittuosa commessa in danno della città di Aprilia, per mezzo della quale, da circa un anno, si sversavano illegalmente rifiuti di ogni genere presso una cava di pozzolana dismessa sita in via corta. Le indagini inerente a tali fatti sono state avviate grazie alla spiccata e riconosciuta professionalità degli agenti della Polizia di Stato del distaccamento della Polizia Stradale di Aprilia, che attraverso il quotidiano quanto capillare controllo del territorio di competenza notavano movimenti sospetti e traffico eccessivi di mezzi pesanti in una strada chiusa, dando così avvia alla complessa operazione di Polizia che si è conclusa con l'esecuzione di diverse misure cautelari nei confronti degli indagati. L'amministrazione comunale ha espresso, fin da subito con deliberazione di giunta comunale del 15 settembre 2017, numero 245, vivo applauso e sincero ringraziamento per l'incominabile operato appartenente al reparto di Polizia Stradale, che hanno dimostrato ancora una volta, come detto presidio, costituiscono un baluardo della sicurezza del territorio della città. Per tale circostanze, tra l'altro, gli agenti del distaccamento di Polizia Stradale di Aprilia sono stati insegnati di un importante riconoscimento al 29esimo Festival Internazionale dedicato all'ecologia, alla solidarietà organizzata dalle associazioni Lega Ambiente e Libera. è libera, scusate. Dato atto che il distaccamento di Polizia Stradale di Aprilia, dalla sua istituzione ad oggi, annovera i sottolencati caduti in servizio, agente Santolo Coppola, 28 luglio 1960, assistente Guirino Fontana, 19 agosto 1985, sovraintendente capo Mario Palombi, 5 ottobre 2004, che poi al Teatro Urova sarà dedicato un momento di ricordo. ritenuto opportuno, per le ragioni sovraillustrate, procedere da parte di questa amministrazione comunale a conferire la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato per l'attività svolta dagli uomini e dalle donne della Polizia Stradale, in servizio presso il distaccamento di Aprilia. Adesso, questo è il corpo della delibera, chiedo se c'è qualche consigliere che voglia intervenire, per cortesia si faccia... Si prenota... Si, si è prenotata... Si, si, ok, si... Si è prenotata Carmen Porcelli. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Sono trascorsi sette mesi da quando, in qualità di prima firmataria, con il sostegno onesto e convinto dei due colleghi che siedono alla mia destra, Monica Tomasetti e Vincenzo Giovannini, ho presentato la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al distaccamento della Polizia Stradale di Aprilia. Non è stato semplice arrivare fin qua, a questa giornata, e se oggi questo importante riconoscimento sarà conferito agli uomini e alle donne della Polizia di Stato, è solo grazie alla pervicacia, alla caparbietà di alcuni pochissimi consiglieri comunali. L'indagine condotta dagli agenti della Polizia Stradale ha dato luogo ad un dibattito molto serrato in quest'Aula Consiliare, molto acceso, e ancora oggi a volte non ne comprendiamo il perché. Questa consigliatura si è aperta cinque anni fa all'insegna di due episodi eclatanti che hanno provocato le dimissioni di un amministratore. Mi riferisco ad Antonio Piochiusolo, vittima di un grave attentato compiuto presso la sua abitazione e destinatario di un inquietante messaggio di morte. Le indagini, che non sono state fidate alla Polizia di Stato, si sono concluse con una richiesta di archiviazione, perché non è stato individuato un solo responsabile. Nessuno ha incendiato le due automobili parcheggiate sulla rampa del garage dell'abitazione del politico, magari con l'intento di provocare un'esplosione, e nessuno gli ha fatto recapitare dieci proiettili rinvenuti nel giardino della casa dell'ex amministratore. Eppure quei proiettili c'erano. Questa consigliatura, invece, come tutte le storie a lieto fine, sta per chiudersi con il riconoscimento di un premio che rende merito al lavoro svolto dagli agenti della Polizia Stradale. E consentitemi di dire, anche a quanti, e sono tanti, che in questa città vorrebbero prevalesse la giustizia, la legalità, che insieme alla tutela dell'ambiente e della salute umana dovrebbero rappresentare delle priorità, e questo per ogni cittadino, a prescindere dal ruolo che riveste nella società civile. Ad Aprilia, nella sua immensa e incontrollata periferia, negli ultimi trent'anni, uomini senza scrupoli hanno scavato e riempito quelle buche con rifiuti di ogni genere, inquinando la nostra terra, inquinando l'acqua e facendoci anche ammalare. L'operazione della Polizia Stradale è eccezionale a nostro avviso anche per questo. Per una volta, gli autori di uno scempio hanno nome e volto. Anche per questo, il vile tentativo di sminuire la portata di questa inchiesta e anche di sminuire la giornata di oggi non ha funzionato. E ve lo dico perché la gente è con voi. I cittadini di Aprilia forse sono stati coloro che ci hanno anche sostenuti, che ci hanno spinti ad andare avanti per questo riconoscimento. Perché vedete, da tanti anni si chiede l'istituzione di un commissariato di Polizia. A partire da questa indagine, molti cittadini di Aprilia hanno avuto la percezione che la Polizia di Stato è presente, come se un commissariato ci fosse. Certo, non è sufficiente. Ci vorrebbero più uomini, forse più donne anche, e anche più mezzi. E a quanti si sono chiesti, anche i rappresentanti delle istituzioni, le ragioni di questo premio, sostenendo che in fondo gli agenti avessero fatto null'altro che il loro dovere. Rispondo con le parole di San Tommaso Moro, che nel 2000 è stato proclamato da Papa Voitila, protettore dei governanti e dei politici cattolici. Lui nel 1500 scrisse che il dovere è l'azione che può produrre più bene al mondo. Forse, sottolineo forse, se ognuno di noi facesse il proprio dovere con autenticità, sacrificio, con ricerca di verità, con sete di valori, allora forse il mondo e anche Aprilia sarebbe un luogo migliore. Grazie, consigliere Porcelli. Mi ha chiesto la parola al consigliere Terzo. Presidente, Presidente Sindaco, spettabili autorità. Per favore, grazie. Presidente Sindaco, spettabili autorità, assessori, colleghi consiglieri, concittadini. Io vorrei rimanere sul tema e sono veramente emozionato ed orgoglioso di partecipare a questo evento oggi. Per Aprilia questo è un grande successo. poter dire che la Polizia di Stato vista sempre da noi cittadini come una presenza importante, così come tutto il gruppo Interforza che vediamo nell'Arma dei Carabinieri, nella Guardia di Finanza, nei nostri vigili urbani. È un'emozione poterli chiamare concittadini. È oggetto di vanto, vuol dire che Aprilia ha voglia di crescere, vuol dire che Aprilia ha voglia di darsi un taglio più ampio, vuol dire che Aprilia ha voglia di dare un segnale chiaro a chi ha intenzioni diverse nella nostra città, perché Aprilia è una città che ospita molte persone e Aprilia è una città molto generosa, ma chiunque viene deve comprendere che non è una città abbandonata a se stessa. Sono veramente orgoglioso di questa iniziativa, colgo l'occasione, peraltro il corpo della Polizia, proprio in quest'anno mi pare che ricorre il 166esimo anno dalla loro fondazione, il quale questo qua prevede un corpo che ne ha viste tante e laddove serve è sempre presente anche con azioni importanti. Il nostro vanto è stato già avere l'Arma dei Carabinieri come i nostri concittadini e mi auguro che la prossima amministrazione dia anche un'occhiata, come è già presente da noi, anche verso la Guardia di Finanza che opera con attenzione nella nostra città e lo vediamo. Io penso che questa città meriti un gruppo interforze e meriti l'attenzione. Colgo l'occasione e concludo anche ringraziando le autorità presenti nella sua espressione massima, anche il prefetto di Latina, il quale ci dà le dovute attenzioni e ci permette di vedere questo e ringrazio tutti. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Terzo. Credo la parola al Consigliere Tomassetti. Grazie Presidente. Autorità convenute, Sindaco, colleghi consiglieri. È un onore per me oggi poter intervenire per porgere la mano e stringere un abbraccio caloroso alla Polizia di Stato e al distaccamento della Polizia Stradale di Aprilia per ammetterla ad essere cittadina onoraria della nostra città. Il privilegio che oggi mi viene concesso è del privilegio di un'intera comunità che si ritrova oggi rappresentata in questo consesso, in tutto questo Consiglio comunale. La Polizia Stradale, come ha già ricordato il Presidente, è presente ad Aprilia da molti anni ed è quindi parte del nostro tessuto sociale, della nostra comunità, ed è punto di riferimento non solo per noi, ma per migliaia e migliaia di cittadini che trovano nella Polizia Stradale un punto di approdo ad esempio nei momenti più difficili, quando accade un incidente stradale e ti senti solo. La Polizia Stradale in tutta Italia poi entra nelle scuole, è presente nelle piazze e negli eventi per insegnare appunto la sicurezza stradale e quindi è vicina a tutte le famiglie italiane, ma è vicina a noi anche quando noi non la vediamo, quando svolge i suoi servizi di sicurezza negli eventi internazionali, i suoi servizi di scorta alle autorità, quindi è un corpo che nel tempo ha avuto ed avrà sempre il massimo rispetto e la massima importanza al pari degli altri corpi che garantiscono la sicurezza nel nostro Paese. Oggi, con questo gesto formale, Presidente e colleghi, andiamo a sancire con la nostra città ed il distaccamento della postrada di Aprilia e la Polizia Stradale tutta, l'esistenza di un vincolo di collaborazione e fiducia al di sopra del normale e rispettoso rapporto di rispetto appunto tra le diverse autorità dello Stato, tra gli enti locali e le forze dell'ordine, tra i cittadini apriliani e la Polizia di Stato. E' inutile negarlo, lo dice la storia e la storia non si può cancellare né si può modificare. Siamo arrivati a questo Consiglio Comunale partendo da posizioni diverse. Non tutti avrebbero voluto convenire questo risultato che ci vede oggi tutti insieme qui presenti. Ma ai noi, noi consiglieri comunali, questa è la politica o forse diciamo il gioco delle parti, forse le situazioni meno comode di quella di essere un consigliere comunale. Ma agenti, operatori di ogni grado della Polizia Stradale dovete sapere che la cosa più importante è che i cittadini apriliani, quelli che rappresentano il vero cuore della città, hanno subito condiviso e sostenuto questa scelta perché è con loro, con i cittadini che gli uomini e le donne della Polizia Stradale condividono e dovranno condividere l'essere cittadini di Avrilia. L'operazione Dark Side, lato nero, lato scuro, ha portato alla luce un disegno criminoso, segno della peggiore attività umana. Il rapporto Eco-Mafia 2017 di Lega Ambiente ha visto il Lazio nelle prime posizioni nei reati ambientali, nella quinta esattamente, e anche nel ciclo dei rifiuti ci sono grandi attività criminose, anche in provincia di Latina. La tutela dell'ambiente, la tutela del territorio, oggi più che in tempi passati è una priorità sia delle amministrazioni locali ma anche di ogni istituzione dello Stato. In chiusura di questo mio cenno di saluto, di questo breve cenno di saluto, voglio ribadire con forza la necessità di istituire ad Avrilia un commissariato, scelta non più rinviabile per le dimensioni sia della città sia per il bacino di cittadini che accoglie a prescindere dai residenti. Vorrei ricordare, come ha già fatto il Presidente, tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che usciti per il loro servizio non hanno fatto più rientro a casa. Il Presidente li ha citati, non li cito nuovamente. Questi sono uomini al servizio dello Stato che devono essere ricordati sempre con impegno e con rispetto. E infine voglio ricordare a tutti noi che la città di Avrilia condivide con la Polizia di Stato e con essa, con la Polizia Stradale, il Santo Patrono San Michele Arcangelo. Anche Avrilia festeggia il 29 settembre. Io ho letto la preghiera a San Michele dei Poliziotti ed essi invocano degli elementi importanti in cultura. Invocano la rettitudine nella mente, il vigore nei valori, l'onestà nelle cose e la dignità sulla terra. Allora io dico che questi non sono solo valori religiosi ma sono valori civili, sono valori democratici che non possiamo mai dimenticare. E concludo, come nei discorsi che a me piacciono tanto, dicendo viva Avrilia, viva la Polizia di Stato, viva la Repubblica. Grazie consigliere Tomassetti. Ha chiesto la parola il consigliere Caporasso. Prego consigliere. Signor Sindaco, signor Presidente, colleghi consiglieri e autorità presenti. Ho chiesto la parola per intervenire in rappresentanza dell'intera coalizione di maggioranza, già dichiarando il nostro voto favorevole e auspicare l'unanimità dei consensi dell'assise oggi convocata. La Quarta Commissione Consigliere Permanente Affari Generali, che ho l'onore di presiedere, si è occupata nei mesi scorsi non solo del conferimento della cittadinanza onoraria, ma anche di elaborare insieme a colleghi un regolamento e fissare parametri finalmente certi per il riconoscimento onorifico oggetto del mio intervento. Il regolamento adottato dal Consiglio Comunale avrà oggi il suo collaudo. Per la prima volta dalla sua approvazione sarà conferita la cittadinanza onoraria mediante l'apposizione delle prime firme sull'albo dei cittadini onorari, che segna sicuramente, in virtù della forza delle motivazioni che hanno portato alla convocazione di questa seduta straordinaria dell'Assemblea Consiliare, una data storica per la nostra città. Oggi siamo qui ad omaggiare le donne e gli uomini della Polizia Stradale di Aprilia, che per primi, con efficace intuito e investigativo, hanno permesso il riscontro e la successiva sanzione di un reato ambientale inqualificabile, come lo sversamento di rifiuti tossici nella nostra periferia. Questo obiettivo è stato possibile grazie al costante e caparbio lavoro di tutti gli agenti che si adoperano per garantire la sicurezza pubblica e stradale. Oltre ai militari dell'Arma dei Carabinieri, presenti sul territorio di Aprilia fin dal giorno della sua inaugurazione, oggi sono i signi della cittadinanza onoraria anche gli uomini e le donne della Polizia di Stato, il cui distaccamento è presente in città da quasi 60 anni. 60 anni nei quali questa istituzione ha saputo radicarsi nel territorio sociale e collettivo apriliano. Per queste motivazioni e senza ulteriori divagazioni, confermo il nostro pieno sostegno alla proposta deliberativa e il nostro convinto voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Caporasso. Cedo la parola al sindaco Antonio Terra. Prego sindaco. Grazie presidente, colleghi consiglieri. Rivolgo il mio saluto alle autorità civili e militari intervenute, in particolare do il benvenuto al prefetto dottor Roberto Sgalla, al prefetto vicario di Latina dottoressa Vittoria Ciaramella, al questore vicario dottor Cristiano Tatarelli e al comandante del distaccamento di polizia stradale di Aprilia Massimiliano Corradini. Con il comandante Corradini si è instaurato sin da subito nel suo insediamento un rapporto di proficua collaborazione e perciò a lui va un sincero nostro ringraziamento. Il Consiglio Comunale di oggi è convocato in seduta straordinaria per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato, per le attività svolte dagli uomini e dalle donne della Stradale di Aprilia. È un'occasione per celebrare e per ringraziare chi con spirito di sacrificio quotidianamente opera per la sicurezza e la legalità del nostro territorio. Pensiamo solo per fare un esempio che giovedì 27 luglio del 2017, proprio il giorno in cui è scattata l'operazione Dark Side, era in programma una manifestazione sterale in Piazza Roma della Polizia Stradale, aperta a tutta la cittadinanza. Questo rende bene l'idea di come gli agenti del distaccamento siano figure riconosciute nel tessuto sociale cittadino e stimate per quanto fanno a beneficio dell'interesse pubblico del collettivo. All'indomani dell'operazione Dark Side il plauso a loro rivolto è stato immediato e unanime. Stiamo parlando dei reati ambientali più odiosi e sentiti, compiuti da individui senza scuro. In una realtà come quella apriliana, con i suoi problemi già noti, basti pensare alle grosse discariche abusive che rappresentano focolai di preoccupazione e malessere da parte della cittadinanza. Coprire un traffico illecito e vergognoso di sotterramento di rifiuti tossici ha destato ancora più rabbia per quanto accaduto. negli stessi giorni in cui l'operazione Dark Side era balzata agli onori della cronaca, il Consigliere Comunale Porcelli ha avanzato a mezzo stampa la proposta di conferire la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato. Poi la proposta è stata formalizzata e sottoposta all'attenzione della Commissione del Consiglio Comunale. Diamo atto con favore perché il dibattito che ne è seguito è stato utile per adottare un regolamento per il conferimento delle cittadinanze onorari, uno strumento che garantisce il Comune di Aprilia regole intercerti per i futuri riconoscimenti onorifici. Il nuovo regolamento ci ha permesso anche di ricostruire la storia dei precedenti conferimenti, tra i quali va ricordato l'ultimo all'arma dei Carabinieri. Lo scorso 21 dicembre il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità una mozione sottoscritta dai consiglieri Porcelli, Tomassetti, Giovannini e Boi e anche questa mattina l'Assemblea Consigliare si esprimerà con voce unanime per scrivere una nuova pagina di questa storia e per fissare nel ricordo collettivo della città di Aprilia l'esempio di abnegazione e spirito di servizio mostrato dalla Polizia di Stato. A proposito, con profondo rispetto, voglio dedicare un pensiero agli agenti di Polizia Stratale Caduti in servizio, l'agente Santolo Poppola, l'assistente Quirino Fontana che tra l'altro la mia famiglia aveva un rapporto di amicizia proprio di conoscenza profonda e il sovrintendente Capo Mario Palombi. Insieme a loro è doveroso ricordare l'assistente Ezio Tulli scomparso tragicamente ad Amatrice durante il terremoto del 2016. La loro perdita è stata gravissima non solo per le famiglie a cui va il nostro cordoglio dell'amministrazione comunale e l'abbraccio della cittadinanza apriliana ma anche per i colleghi che hanno perso preziosi punti di riferimento nel lavoro quotidiano raccogliendo però il testimone del loro senso del dovere e portando avanti l'attività del distaccamento con lo stesso infaticabile impegno. Grazie a tutti. Grazie Sindaco. Cedo adesso la parola al Signor Prefetto Dottor Roberto Sgalla, Direttore Centrale di tutte le specialità della Polizia di Stato. Prego. Bene, grazie. Grazie Signor Sindaco, grazie Presidente, grazie a tutti voi consiglieri, grazie alla cittadinanza. Lo ricordava il Presidente, questo è un distaccamento che è stato costruito nel 59, quindi ha una storia lunga, una storia di impegno, di dedizione, di sacrificio e di sacrifici. Questo è il risultato di un gioco di squadra, voi sapete che non ha operato solo la Polizia Stradale, ha operato la squadra mobile, ha operato lo SCO, ha operato il reparto volo e la motivazione dice la Polizia di Stato. Perché noi siamo una grande struttura, complessa, oltre articolata, ma il risultato poi è il risultato di TAN, di professionalità, di competenze. Vedete, noi al nostro interno abbiamo un sistema premiale che conosce, che opera un premio, ancora di lode, un camion. Ma chi fa questa attività sa bene che il più bel premio, la più bella ricompensa è la riconoscenza della gente, della popolazione, dei territori in cui uno opera. Voi siete persone che fanno politica, voi sapete che voi vivete di consenso. È un consenso che conquistate giorno per giorno e che si manifesta nel momento poi delle elezioni. Le forze di polizia in un paese democratico vivono di consenso. In questo caso non un consenso elettorale, indubbiamente, ma un consenso che deriva proprio dalla riconoscenza, dall'affetto, dalla solidarietà, dalla vicinanza, dal fatto che noi cerchiamo di essere utili. E questo aiuta a creare quel rapporto inscindibile che oggi si manifesta anche in un modo molto tangibile, cioè quello di avere la cittadinanza. Ma noi ci sentiamo cittadini tra i cittadini. Voi sapete che la Carta Costituzionale impegna le pubbliche amministrazioni, gli uomini e le donne delle pubbliche amministrazioni a rispondere a due valori fondamentali, onore e disciplina. La nostra attività deve essere fatta proprio con i criteri dell'onore e della disciplina. A me piace aggiungerci sempre altri due aggetti. L'uno è professionalità. Ed altronde questa attività che i colleghi hanno fatto, che voi avete ricordato, si è conclusa con 22 ordinanze di custodia cautelare. Sono stati sequestrati beni per 15 milioni di euro. 9 società, 11 corte societarie, 7 fabbricate destinate a civile abitazioni, 8 fabbricate industriali, 7 locali di deposito e magazzino, 37 apprezzamenti di terreno, 60 veicoli e numerosissimi rapporti bancari. Quindi voglio dire che ci vuole professionalità per fare un'operazione. Non è una cosa semplice da realizzare, costruire i legami. E guardate che credo che ancora una volta si è dimostrato quanto è importante non solo controllarlo in territorio, conoscerlo. Voi sapete che l'operazione nasce da un'intuizione degli uomini e delle donne della polizia stradale. Vedendo questi camion che giravano per la vostra città, per le strade di questa realtà, e si domandavano che cosa trasportavano, dove andavano. Anche perché formalmente spesso è sempre tutto a posto. I documenti, anche se poi magari falsificati, formalmente sono tutti a posto. E invece dietro celava un attentato, come si diceva prima, proprio finalizzato ad intaccare la salute, intaccare l'ambiente di dove vivete voi. Ma oserei dire un po' di tutto poi il territorio nazionale. E quindi a me piace aggiungere a onore e disciplina professionalità e umanità. Quest'attività, come dicevo prima, non si può fare senza consenso. Solo i paesi dittatoriali sa che, come dire, le forze di polizia possono operare senza consenso. Ma nei paesi democratici la polizia risponde alla legge, indubbiamente. E' così, ma questo è un criterio, oserei dire, di tutti i cittadini. Ma accanto a rispondere alla legge rispondiamo a un rapporto speciale con la cittadinanza. Ma accanto a questo non si può non operare con l'umanità. L'umanità è un sentimento che caratterizza chi fa questa attività. Si fa questa attività che, al fine, è un'attività di cura, oserei dire. Perché è la cura del territorio, è la cura delle persone, è la cura della città dove si opera e dove si vive. E quindi veramente grazie. E' molto bello ricevere un apprezzamento, ricevere un consenso così, ricevere la cittadinanza da voi che siete la rappresentanza di questo territorio, siete la rappresentanza della città. E, permettetemi di dire, dicevoli in modo unanime, noi siamo al servizio del Paese, siamo al servizio dello Stato, siamo al servizio della gente. Ognuno di noi ha la propria opinione, per carità, la esercitiamo quando siamo chiamati al voto, ma siamo istituzioni. E quindi ci fa molto piacere che un Consiglio Comunale, nella sua totalità di rappresentanza, quindi di tutti i cittadini, ha voluto darci questo riconoscimento. Vedetemi ancora due riflessioni. Primo, quante volte si discute del rapporto tra sicurezza e libertà? Io credo che non ci può essere libertà, o almeno non si può esprimere la nostra libertà se non c'è sicurezza. E altre volte, quante volte abbiamo discusso del rapporto tra legalità e sviluppo. No? Abbiamo sempre detto, lacciuoli, attenzione, le due cose non possono essere dite. Lo citavo prima, ricordando l'ordinanza di custodia. Io credo che legalità e sviluppo vadano di pari passi. Non ci può essere uno sviluppo, uno sviluppo economico, ricchezza, distribuzione di ricchezza, se non c'è un tessuto legalità. A noi compete di cercare di costruirlo, in questo caso lo dico noi non solo polizia stradale, polizia di Stato, ma forze di polizia nelle sue varie articolazioni. Qui mi fa piacere che ci siano presenti i colleghi dell'Arma, della Guardia di Finanza, delle polizie locali. È un gioco di squadra, come lo è stato nell'operazione che voi qui avete ricordato e per la quale date questa cittadinanza. È un gioco di squadra. Questo riconoscimento, caro comandante, ci obbliga a far ancora di più. Quando ricevi un riconoscimento vuol dire che devi fare ancora di più, ma che devi fare ancora di meno. Quindi un impegno, una dedizione. È chiaro che impegni anche noi a fare qualche cosa per potenziare la realtà, per renderla ancora più in grado di rispondere ai bisogni di questa cittadinanza. Finalmente siamo tornati ad assumere uomini. Nel 2018 verranno assegnati 3.000 uomini. La Polizia di Stato finalmente ha ricominciato ad assumere, a fare concorsi, a fare corsi. E quindi all'interno di questo anno, a finire febbraio 2019, circa 3.000 uomini verranno assegnati sul territorio nazionale. È un primo, come dire, sforzo che chiaramente spero potrà anche premiare questa realtà della Polizia Stato. Per me è una bella giornata. Noi qui purtroppo siamo stati, lo ricordava il Sindaco, anche per momenti dolorosi. Proprio ricordava la morte dei nostri colleghi, l'intitolazione della realtà del distattamento a un assistente, proprio qualche anno fa. Oggi siamo qui veramente con la felicità di questo riconoscimento. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato e della Polizia Stadale di Aprile vi sono grati. Io lo ricevo in maniera non meritata, vorrei dire, perché il mio è un compito per il coordinamento. Chi lavora sulla strada sono loro, sono quelli che incontrate. E magari qualche volta vi faranno fatto anche una multa. Ma quella multa, ricordate, che forse ha salvato anche una vita. Ricordiamocelo. L'attività di sicurezza stradale, noi abbiamo parlato di Polizia Giudiziaria, ma la Polizia Stadale è quella che per, come dire, fisonomia, per mission, si occupa di sicurezza stradale. Viviamo in una realtà dove purtroppo l'incidentalità è alta. Ne ho fatto preparare alcuni dati, non vi tedio, perché li conoscete meglio di me. La sicurezza stradale è un tema molto sentito, è molto attuale. E quindi anche qualche volta la contravvenzione, te ne dico sempre, magari ci aiuta a riflettere, magari ci aiuta a rispettare quelle regole che poi sono alcune regole di convivenza, di convivenza. Grazie a voi, ma grazie alle donne e agli uomini della Polizia Stadale. Io credo che va dato a loro il riconoscimento, va dato a loro il grazie, va dato a loro il tributo di questa bellissima giornata. Sicuramente, state tranquilli, loro vi ripagheranno con altrettanto impegno, con disponibilità, con serietà e con professionalità. Grazie. Grazie. Ringrazio il signor prefetto, dottor Roberto Sgalla. Allora, finiti gli interventi, procediamo alla delibera dell'Altre. Il Consiglio Comunale, per le motivazioni sopra espresse e quindi claramente richiamate, delibera di conferire la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato per le attività svolte dagli uomini e dalle donne della Polizia Stradale in servizio presso il distaccamento di Aprilia. Procediamo alla votazione. Terra. De Maio, assente. Di Leonardo, assente. Vittoriano, assente. Tumeo. Di Marcantonio, sì. Porconi. D'Alessandro, assente. Violcati. Alfano. Zallucchi. Caissutti, assente. Pistolesi. Casari. Martelli. Caporaso. Romualdi. Boi, assente. Boi, assente. Terzo. De Luca. Gabanella. La Pegna, assente. Porcelli. Giovannini. Tomazzetti. Tomazzetti. Votazione conclusa. All'unanimità, la delibera è stata provata. Allora, invito a sottoscrivere Alba e Consegna Pergamena. Invito i giornalisti, chi vuole procedere a fare delle foto, può avvicinarsi. Gozi. Grazie. 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 Allora, prima di concludere, volevo leggere una nota che è pervenuta dal nostro vescovo, Sua Eccellenza Marcello Semeraro, che oggi purtroppo per impegni che Santo Padre l'ha invitato al Consiglio di Cardinali è impossibilità da prendere parte e ne ringraziarla per la cortesia, esprime il suo miglior auspicio ed invia il suo cordiale salute alle autorità partecipanti cordialmente. Allora, mi è doveroso ringraziare tutti gli intervenuti presenti e in particolare il signor prefetto Roberto Galla, direttore centrale della specialità di Polizia di Stato, prefetto vicario di Latina dottoressa Vittoria Caramella, il vicequestore vicario dottor Cristiano Datarelli, comandante del distaccamento di Polizia Stradale di Aprilia, ispettore superiore Massimiliano Corradini. Adesso invito tutti al Teatro Europa, che si esibirà la fanfara della Polizia di Stato, diretta dal sostituto commissario secundino, maestro De Palma. Tanto la cerimonia termina e invito tutti al Teatro Europa. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.